Due giovani, un 27enne di Contrade e un 19enne di Monteforte Irpino, sono stati tratti in arresto dai carabinieri della stazione di Forino perché ritenuti responsabili del rogo della Ford Bondeo, di proprietà del titolare della stazione di servizio in via nazionale a Contrade. L'auto era stata incendiata all'alba dello scorso martedì davanti allo stabile dove l'imprenditore risiede con la famiglia. Secondo quanto accertato degli investigatori, prima di appiccare il fuoco alla Ford, i due giovani avrebbero arrecato dei danni alla stazione di servizio. I due presunti responsabili del raid incendiario fermati dai carabinieri già nella giornata di martedì sarebbero stati inchiodati anche dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del distributore di carburanti. La compagna dell'imprenditore aveva anche riferito di essere stata minacciata e colpita con un pugno a volto sferrato durante l'incursione alla stazione di servizio da uno dei due mentre era a lavoro dietro il bancone del bar adiacente all'impianto di distribuzione. Il 27enne e il 19enne, dopo la convalida dell'arresto da parte del GIP del Tribunale di Avellino, sono stati ristretti verso il carcere di Bellizzi-Irpino. Entrambi devono rispondere di danneggiamento e incendio. Alla base degli atti intimidatori ci sarebbero degli interessi per una casa finita all'asta, ma l'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino è ancora in corso per verificare ancora molti lati oscuri di questa vicenda e accertare altre eventuali responsabilità. Ulteriori sviluppi giudiziari ci potrebbero essere già nelle prossime ore. E su essa impresa, con il presidente Mimmo Capossela, aveva espresso la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia dell'imprenditore, invitando a denunciare questi fenomeni. Dopo la notizia dell'arresto dei due giovani con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, ha manifestato il pauso e l'apprezzamento dell'amministrazione comunale per il positivo risultato dell'operazione eseguita dai carabinieri della stazione di Porino. Un lavoro di squadra, scrive il primo cittadino, che ha consentito di affrontare e superare anche situazioni difficili come quella registrata nelle ultime ore a Contrada.